E basta possibile, non avrei neanche un po' d'entusiasmo, stiamo andando in Africa! Bugabee 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 Sì, ti rendi conto? Questa è la culla del genere umano, è dove tutto è cominciato È da qui che è arrivato il padre di mia nonna Su con la vita, sì, vedrai che ci divertire, è sicuro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti